È stata presentata a Castiglioncello del Trinoro l'edizione 2017 del Grand Tour Terre di Siena, un evento in programma dal 22 al 25 aprile che si svolge tra Valdichiana e Valdorcia, tra i comuni di Pienza, Sarteano e Chianciano Terme. Una manifestazione di ciclismo a tappe che promuove il turismo sportivo nel nostro territorio, patria del benessere, del buon mangiare e di cultura. Quest'anno è la seconda edizione, speriamo che ci sia un successo come merita. Il territorio sicuramente si presta bene a queste cose e quindi abbiamo insieme a Chianciano e Sarteano molto volentieri riprovato e riproposto questo evento che speriamo abbia un successo visto anche il periodo in cui viene fatto, teoricamente dovrebbe essere sicuramente privilegiato rispetto all'anno scorso che era un periodo un po' più caldo. Quindi siamo assolutamente felici anche e soprattutto perché sempre di più riusciamo a fare cose insieme e quindi questo dovrà essere da stimolo per cercare di proporre eventi o comunque iniziative congiunte a più comuni come stiamo facendo ad esempio anche per la mostra che abbiamo fatto a Pienza, San Quirio e Montepulciano. Questo è un altro evento, i servizi li stiamo facendo quindi chissà, prima o poi faremo quasi tutto insieme anche perché da soli andiamo poco lontano. È il secondo anno che riproponiamo questo abbinamento tra ciclismo inteso come gara agonistica e ciclismo invece come turismo lento che gira quelli che sono e visita i nostri territori. È il secondo anno che proviamo a mettere insieme tre comuni che organizzano insieme i percorsi e quindi le giornate di vacanza qui nel nostro territorio. Continua quello che è il nostro impegno è lavorare non solo per Chianciano ma per tutto il territorio della Valle di Chiana e della Val d'Orcia. Chiaramente il concetto è sempre quello, se lavoriamo da soli molto probabilmente diventiamo sempre meno competitivi in un mondo turistico che invece richiede sempre più, sempre più servizi, sempre più posti da vedere, sempre più il turista esigente. E quindi credo che questa insieme poi a tutte le altre situazioni che stiamo mettendo in piedi dalla strada albino nobre, alla promozione turistica del territorio eccetera eccetera insomma fanno parte di quello che sarà il futuro del nostro territorio e di Chianciano in questo senso perché sono il sindaco di Chianciano. Un grande evento sportivo a cavallo fra Val d'Orcia e Val di Chiana tre comuni coinvolti, Sarteano, Pienza e Chianciano Terme quattro giornate dal 22 al 25 d'aprile un bell'investimento da parte dei comuni su quello che è un segmento di mercato il turismo sportivo che vogliamo assolutamente curare molto da vicino due valli bellissime, Val di Chiana e Val d'Orcia impianti sportivi da valorizzare sempre di più in questa ottica ci auguriamo veramente che sia una grandissima festa per i tre comuni e per le nostre due valli. La prima tappa sabato 22 aprile nella città di Papapio II con la cronometro Pienza. È una cronometro che partirà appunto dal bivio di Pian di Maggio e si snoderà fino a Pienza, sono 7 chilometri con la parte finale in salita e quindi una gara abbastanza impegnativa l'anno scorso mi sembra vinse il Chiancianese Carote al quale faccio gli auguri perché purtroppo quest'anno ha avuto questo incidente in bici e speriamo che siano parecchi partecipanti e che sia una gara vincente come sicuramente sarà. Grand Tour Terre di Siena prosegue poi il 23 aprile con la cicloturistica Sarteano per poi continuare il 24 aprile tra Chianciano e Sarteano e terminare il 25 aprile con la sedicesima Gran Fondo della città termale. A Sarteano 23 e 24. Il 23 avremo una bella iniziativa che è una cicloturistica per le strade che da Sarteano si dipanano verso la Val d'Orcia e poi Val di Chiana per rientrare in serata, il 24 Bim Bim Bici. Le due attività sono possibili grazie al grande impegno di due associazioni sartanesi la Crocette Bike, la prima, il primo evento e la S di Serena Mancini il secondo. Il 24 sarà una grandissima festa dei bambini e per le famiglie, quindi biciclette, famiglie e bambini al Palazzetto dello Sport a Sarteano. La Gran Fondo, che è la sua sedicesima edizione, è un evento importante, ha già apportato un bel numero di partecipanti in questi anni. Quest'anno verrà riproposta nella data iniziale, quella del 25 aprile, che ha avuto tanto successo nei primi anni, poi per varie vicissitudini è stata spostata in altri periodi, ritorna all'origine e quindi speriamo anche di un numero di partecipanti importante. L'abbiamo voluta inserire, questa è la Gran Fondo, nel Grand Tour proprio perché per dargli una valenza più di importanza. Insomma, è da 16 anni che ormai questo evento ha un numero, è già inserita nel master class tricolore, quindi è già un evento di rilievo. Però con il Grand Tour dobbiamo dare una valenza anche di territorio, quindi anche turistica, perché il problema era la permanenza. La Gran Fondo è una gara che porta anche 500-600 partecipanti, però che vivono il paese e vivono il territorio solo un giorno. L'idea del Grand Tour era proprio quello di abbinare anche il cicloturismo, che è un evento molto in crescita a livello europeo, ma anche a livello nazionale e credo che i nostri territori si prestano molto a questo perché il turismo lento è un turismo che è in espansione, è un turismo che si addice molto bene a quelle che sono le peculiarità del nostro territorio, la gastronomia, la cultura e abbiamo anche delle strade adatte per questo turismo così con la bici perché ancora abbiamo un terreno favorevole e quindi l'idea di abbinare alla Gran Fondo, che è un evento comunque già conosciuto, altri eventi potrebbe nel futuro lanciare veramente una manifestazione di rilievo. Questo è il nostro obiettivo, abbiamo bisogno costantemente dell'aiuto delle associazioni perché i comuni possono mettere un contributo, possono dare una mano, però poi sono le associazioni del territorio che sono quelle che poi lavorano sugli eventi. Io per questo infatti volevo ringraziare Endas Siena che è l'organizzatrice, MTB Chianciano e anche le associazioni come a ricordare l'Andi di Sartiano perché grazie a loro poi alla fine praticamente si organizzano gli eventi quindi io spero che possa avere successo più anche dell'anno scorso.